No, non è questo il punto. Noi abbiamo fatto un governo serio e ha permesso di recuperare i 209 miliardi di euro. Lo diciamo agli italiani, Vespa, se ci fosse stato Salvini con la Meloni Vice Premier, l'Europa non avrebbe fatto il Recovery Fund o perlomeno non avrebbe fatto con queste cifre per l'Italia. Lo sanno tutti. Quindi questo governo, il governo Conte, ci ha permesso di tornare credibili in Europa. Viva Conte, ma poi nel pasto... succederà dopo, non dipende dalle regionali, ma dipende dal lavoro, dalla capacità di tornare a scuola, dalla sicurezza. Questi sono i temi di discussione. Il rimpasto interessa agli addetti ai lavori. A me quello che interessa è che si sblocchino questi benedetti cantieri e siccome io penso, a differenza di tanti, che non andrà tutto bene, io sono uno di quelli che pensa che nei prossimi 6-8 mesi ci sarà una grande crisi occupazionale, dico da subito, bravi ad averli presi i 209 miliardi di euro, bravi ad avermi dato a casa Salvini, ma bisogna anche spenderli e spenderli bene, non per quelle schifezze come il reddito di cittadinanza, ma per...